Sono Isabella Ragonese e sono in sala di registrazione. Stiamo registrando un bellissimo romanzo di Paolo Cognetti che si chiama Sofia veste sempre di nero. Non c'è da attendere molto, so che siete in trepidante attesa perché uscirà il 30 novembre, quindi insomma non c'è da aspettare tanto, un mesetto così.